salve a tutti e benvenuti a fix it in post il podcast che parla di effetti visivi realizzato da chi di effetti visivi veramente ci campa sono io sono luca olette sono qui con i miei grandi amici e compare d'avventure emilio e mario emilio emilio sapi e mario balucci vi stavo scambiando i cognomi ciao a tutti ciao allora emilio tu sai di cosa parliamo oggi e io no sono ignaro della vita proprio voglio sapere da mario mario illumina allora oggi è una puntata particolare che mi è molto a cuore perché mi fa tornare agli albori della mia vita da youtuber quando quello che facevo era parlare di iphone e di apple perché oggi parliamo di iphone 15 del nuovo iphone di apple esatto esatto se siete fanboy ragazzi ma ne parliamo io sì tanto io anche io sono fanboy di apple tutto apple ma anche te vedo tutto apple dai non rompere le scate no no infatti non ho un pc da 27 mila anni però siamo in un podcast che parla di effetti visivi per cinema e televisione e seguiamo il trend dell'iphone 15 ma perché lo seguiamo perché ne parliamo mario ne parliamo perché lo ne parliamo diciamo dal nostro punto di vista cioè analizzando i prodotti che la apple distribuisce non solo prodotti fisici ma anche quelli pubblicitari infatti andremo ad analizzare lo spot dell'iphone 15 nel quale ci sono delle piccole magagne di vfx che non ci si aspetterebbe dalla dalla perfetta apple e poi andremo a parlare dell'iphone 15 pro che ma inseriamo del paese max sa parleremo in modo particolare anche di quello in quanto apple nello spot dell'iphone 15 pro ha detto testualmente che ha una camera che può letteralmente girare un blockbuster capito capito che vai fuori del blockbuster quello chiuso bravo esattamente e gli fai il video e gli giri intorno e gli giri intorno ma da buoni podcaster quali siamo youtuber come volete chiamarci abbiamo fatto un bel titolo clickbait infatti io partirei proprio da questo concetto e il fatto che ci sono tanti errori nell'iphone 15 in realtà tra virgolette nello spot di iphone 15 il maestro del clickbait allora allora c'è un un tale aspetta che se puoi richiamare il thread twitter o x c'è tale dylan mcd 8 che praticamente ha lanciato un un thread su twitter dove si è accorto di un sacco di errori di compositing nello spot dell'iphone 15 ci sono dei momenti in cui la dynamic island sparisce completamente esatto più di un punto dei momenti in cui lo screen replacement dell'iphone è fatto male con i bordi che sono fatti male con delle trasparenze che non ci dovrebbero essere eccola questa per esempio il ditino tagliato esatto il green screen sull'iphone questa l'hanno fatta in after dici fatta in after sì sicuramente oppure l'hanno girata col culo come spesso succede è un po difficile però e poi l'ultima che è sottilissima effettivamente un occhio esperto lo vedi se ti guardi lo spot in animazione vedrai che c'è uno scattino ma proprio di un frame dove si passa dall'iphone 3d all'iphone vero e se lo metti in lettura adesso se guardi le immagini l'accanto all'altra non te ne accorgi ma messo in lettura si c'è un scatto di un frame che ancora una volta e poi lo fa sempre qua l'ho visto ragazzi lo devi vedere cento volte no no si vede ma c'è un tac oddio io non l'ho visto c'è un tac eccolo si dai luca no non lo riesco a vedere ragazzi no ma è veramente una roba da te la passo solo per se sei stanco guarda perché dite scusa la prima parte dello spot questo iphone è vero dite voi secondo me questo iphone è finto è finto è vero dopo e poi arriva la mano ed è vero voi dite che qui questo è vero ci dovrebbe essere un modo per andare frame by frame su youtube su youtube no sì sì esiste per chi per chi ci sta ascoltando e non ci sta vedendo stiamo guardando proprio col microscopio lo spot dell'iphone 15 trovate ovviamente trovate il link nell'articolo su fixitimposto.it dove ci sono tutti i link che di cui parleremo oggi perché il buon luca si mette l'elicopia l'incola il sistema quindi qua siamo tutti quanti bravi voi cosa ne pensate degli spot dell'apple in primis io poi continuo dai tempi dell'ipod visto visto lo scattino visto lo scattino è impercettibile porca miseria non è impercettibile dai dai sì però vi dico una cosa poi vi dico una cosa dai vai in uno streaming sicuramente di una presentazione del genere sicuramente passa come potrebbero passare noi siamo qui a divertirci dai ah sì noi siamo qui a fare dire pulci che è diverso rompere i coglioni io lo compriamo questo questo iphone certo che ce lo compriamo purtroppo non subito ma fra un po' ma dai mario che tu adesso li degali a tutti e tre dai io ho il mio bell'iphone 13 fino a quando non metteranno il touch id sotto lo schermo io non comprerò mai più un iphone non penso che arriverà mai questo giorno no 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 invece secondo me arriva comunque mario stavi dicendo una cosa che non ho capito cosa volevi dirvi c'è un utente del che ha scritto nel che ha commentato in questo thread su x slash twitter che diceva questi questi video sono fatti per farti fare wow e non per essere scientificamente accurati è vero però è vero pure che da tecnico e pensando a quanta precisione ci metta apple e quanta cura ci sia nell'art direction di questo spot e degli suoi spot in generale mi hanno sorpreso di trovare queste magagne questi questi errori che effettivamente sono per apple sono macroscopici non sono piccoli allora ti dico una cosa a mio avviso è questa è colpa del marketing spiego vai questa è la parola che non dici mai esattamente secondo me certe decisioni vengono prese tanto in ritardo e creare questi prodotti audiovisivi secondo me non è che ci vogliono due giorni secondo me ci stanno lavorando ampiamente da luglio tra riprese post montaggio secondo me c'è un messetto buono per fare un prodotto di un'ora e mezza che una presentazione intera apple ci vuole un mese e mezzo ce lo devi mettere secondo me sono messo anche pochi le presentazioni sono spettacolari e considera che all'interno della presentazione si trovi sia lo spot che poi dopo verrà riutilizzato successivamente quindi è tutto un pacchetto e per fare una presentazione che ho visto intera dura un'ora e mezza e considerando che i prodotti poi lavorando le ogni anno facendo delle scelte commerciali ogni anno così in modo così repentino e ovviamente loro quando quando cominciano a fare la produzione di del keynote ma secondo me passerà un mese un mese e mezzo prima della messa in onda quindi secondo me la colpa è del marketing perché si va di fretta perché gli artisti stanno le a ritoccare sempre costantemente non è togli quella foto non mettine un'altra e secondo me vanno ai matti e purtroppo gli errori capitano sono d'accordo con luca dai difendiamo chi fa il nostro mestiere sono d'accordo anche io e non succede solo quando è apple il tuo cliente succede un po troppo spesso chiunque sia il cliente che non abbia le idee chiarissime o che non abbia una percezione del tempo come dire comparabile a quella che è necessaria per la post produzione di certi scene esattamente quello il problema se voi pensate se adesso ci arrivo ti passo subito la parola se voi pensate alla quantità di scelte e un po tutti quanti noi abbiamo fatto abbiamo lavorato in pubblicità qualche volta cambiano idee in continuazione che ne sapete che non hanno cambiato idee il giorno prima della presentazione e quegli shot sono stati rilavorati il giorno prima ci può tranquillamente stare e questo è sempre la stessa colpa quando escono i trailer fatti male con gli shot non finiti bad cgi tutte quelle menate lì perché un problema di marketing quando gli studios si 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 uniscono e diventano sindacato per lamentarsi è esatto comunque luca hai detto praticamente la stessa cosa che volevo dire io e cioè che vuol dire direzione artistica di qualcuno non semplicemente del tempo a tale proposito in questi giorni se non sbaglio ieri o un paio di giorni fa è uscito un articolo di ugo guerra quello di hugo's desk che sostanzialmente parla di questa medesima identica cosa in ambito cinematografico e televisivo ma il concetto che esprime è esattamente questo cioè che non c'è non esiste la bad cgi esistono cattive direzioni da un punto di vista artistiche di produzione di tempo non so se sono d'accordo allora cioè nel senso cioè è vero però diciamo non è che non esistono e mi metto io in prima fila gli artisti cani che fanno le cose male ci sono i cani però se tu pensi a che ne so ora parliamo di apple apple difficilmente fa uscire una roba che non sia non funziona capito super rivenita vuol dire che da qualche parte l'ingranaggio si è bloccato non credo che sia colpa che ne so del del compositor x che a un certo punto si è trovato che doveva fare una chiave e gli è venuta male perché non la sa fare insomma come gli è venuta una chiavica gli è venuta una chiavica sì però magari per questioni di tempo perché magari come dicevate gli hanno cambiato idea sette minuti prima del keynote a me lo sai qual è la cosa che stupisce molto soprattutto degli errori nei che sono due gli shot dove sparisce la dynamic island che è uno dei punti forti del marketing per citare luca di questo prodotto cioè l'iphone 15 non è il pro ma l'iphone 15 normale fra le varie novità che c'è c'è la dynamic island se infatti che non ce l'aveva nella versione 14 era esclusiva del modello pro quindi il fatto che non siano stati lì proprio col con l'anternino a dire la dynamic island si vede sempre bene la dobbiamo vendere è un pochettino mi stupisce salteranno delle teste ma ti dico sicuramente te lo dico sicuramente e ti aggiungo anche che in queste reparti marketing purtroppo quando hai a che fare con il cliente non c'è un cliente ma ci sono almeno in questa società così grandi 40 50 passaggi persone il capo del capo del capo del capo del capo del capo del capo che forse è uno dei capi dei capi dei capi ha detto no ma forse è meglio la fotografia arancione fate il giochetto della scimmia che ti parla nell'orecchio come si chiama quel il telefono senza fili e alla fine cominciano a ad arrivare di questi problemi anche perché penso che non il compositor gli artisti che fanno questi prodotti non sono interni ad apple penso che siano compagni esterne non so se voi avete conoscete qualcuno che io sappia non conosco nessuno però che io sappia sono sì sono compagni in compagnie esterne è quindi perché sapevo che c'era una roba di mega contratti di segretezza quando ci lavori per per aggiungere una roba su quella che diceva luca in questo in questo momento recentemente ho lavorato una roba di cui non posso parlare più di tanto perché ancora non è uscita è praticamente uno spot tv anzi è uno spot cinema che va andrà al cinema probabilmente non lo so perché è tutto fermo non l'hai visto neanche tu tu hai lavorato con gli occhi chiusi io ho visto le scene su cui ho lavorato e ovviamente non sono lo spot completo la cosa bella è come raccontavi tu luca che c'erano tipo tanti passaggi di marketing slash creativi fai conto due agenzie oltre allo studio con cui stavo lavorando quindi noi facevamo come dire i manovali ci dicevano cosa fare e facevamo quello che ci veniva detto alla fine di farlo un po più a destra e fai conto dopo un mese di lavoro siamo arrivati a una roba che entrambe queste queste agenzie hanno approvato e abbiamo scoperto nel momento in cui ci hanno approvato questa cosa che il cliente non aveva mai visto niente no si ricomincia da capo esattamente tutto fermo da un mese perché sono ripartiti dal montaggio storia vera ragazzi te lo giuro che poi esiste esiste un animale mitologico che a me fa terrore che più o meno è simile a quello che racconta tu cioè sì una specie di ctulo cioè il super mega direttore galattico che non gliene frega niente durante tutta la produzione di sapere un cazzo ma quando è tutto pronto lo deve vedere e deve dire la sua certo quando 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 non è tardi è tardissimo ma non mi piace con i capelli con i capelli biondi ne avrei da raccontare ragazzi se racconta se vuoi citarlo allora una dovevamo avevamo iniziato la produzione di un di uno spot per un un brand di profumi del nostro paese tutto approvato avevamo fatto non non personalmente io perché non me non me ne occupo ma insomma questo gruppo di persone con cui lavoravo aveva fatto anche un animatic quindi era tutto diciamo super definito primo giorno di riprese arriva una telefonata prima del primo giorno di riprese scusatemi arriva una telefonata dalla dalla casa di produzione che ci dice che il presidente ha visto e ha detto così in nonchalance ma non era questo che mi avevo in mente per 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 il lancio di questo prodotto e tutto è stato cancellato ovviamente hanno dovuto pagare tutto il lavoro fatto fino a quel momento e anche delle penali quindi immaginatevi ma ce ne avrei ce ne avrei tantissimi ragazzi sono situazioni davvero difficili da cui società di effetti da produzione animazione uscirtene poi io perciò odio la pubblicità io la odio proprio non è sempre così a volte anche molto peggio cose anche molto belle che vengono fuori dalla pubblicità dai e poi visto che io sono visto che io sono il johnny polemica della situazione una cosa terribile è che spesso e volentieri questi super mega direttori galattici non capiscono un cazzo cioè mettono bocca e tutti gli dicono sì sì hai ragione dobbiamo cambiare tutto ma perché il capo cioè io mi ricordo una volta cioè mi venne fatta un'osservazione che io non sapevo come rispondere cioè mandiamo uno storyboard disegnato ovviamente in bianco e nero cioè e mi vengono fatte due osservazioni fa una ma noi lo vogliamo animato è che si muove numero uno numero due però cioè non deve essere disegnato è no è un storyboard cioè per farti capire l'idea quindi e questi sono quelli che dicono che decidono poi ah no non va bene rifacciamo tutto mi sono immaginato l'architetto che gli arriva col progetto ma io la voglio davvero la voglio ti mattoni la casa nel film zulander nel film zulander quando c'è lui che vede la miniatura della libreria dice che cos'è questa libreria per formiche purtroppo il marketing ci ucciderà a tutti ed è anche però la formula che ci dà da mangiare e sostentare a tutti ma parlando di marketing sta diventando fix it in marketing ragazzi può essere una rubrica colpa di luca allora dopo che abbiamo visto lo spot dell'iphone 15 e queste strane magagne e andiamo a parlare del fratello maggiore dell'iphone 15 cioè l'iphone 15 pro ne parliamo perché il marketing della apple quest'anno lo sta proprio vendendo come una video fotocamera non che negli anni precedenti non l'abbia fatto ma sta spingendo tantissimo l'acceleratore su determinate caratteristiche che effettivamente ha questo iphone adesso io ve le dico queste caratteristiche e ne parliamo un pochettino una caratteristica che deriva già dal precedente iphone pro è il fatto che possa girare in proress luca che cosa è il proress allora il proress è un tipo di codifica un tipo di codifica bella larga quindi non troppo pesante che è diventata nel tempo uno standard per dei passaggi nel mondo del cinema e delle produzioni video perché un ottimo rapporto tra compressione e qualità ne esistono di diversi tipi ma diciamo che la gran parte dei delle macchine da presa può registrare anche in questo formato che come dicevo un compromesso tra qualità e peso del file non entriamo troppo nello specifico perché altri diventa una palla atroce ero già pronto a partire col pippone tecnico mi hai fermato in tempo te lo farò fare c'è il momento c'è il momento c'è il momento quindi diciamo per rendere l'argomento pop potremmo dire che l'iphone pro 14 e 15 max eccetera registrano se vogliono in proress tutti gli altri smartphone registrano in h264 h265 mp4 eccetera in dei formati che sono molto più leggeri di minore qualità ma che soprattutto hanno come caratteristica il fatto di non essere altrettanto modificabili trattabili in post produzione cioè aggiungo un'altra cosa i file proress il fatto che non abbiano una compressione molto pesante i file sono più grossi sono più pesanti ma i computer li lavorano con molta più facilità mentre i file h264 h265 che ha citato mario sono delle compressioni special modo l'h265 molto pesanti che rendono i file molto piccoli ma i computer dopo lanciano le bestemmie per lavorarli per leggerli devono fare la decodifica scusate l'attimo l'attimo nerd mi è uscito dal cuore doveva arrivare questo momento un'altra caratteristica questa è una novità dell'iphone 15 pro è il fatto che possa registrare su un disco esterno cioè non nella memoria del telefono ma su un hard disk esterno che quindi può essere sostituito al volo come si fa con le vere macchine da presa non occupando spazio sulla memoria questa è una cosa molto interessante no questa è una cosa molto interessante perché gli iphone vengono utilizzati in produzione ci sono tanti casi dopo ne parleremo e il fatto di registrare sulla memoria interna si è legato ovviamente in fase di acquisto a comprare se lo devi utilizzare per quegli scopi a comprare l'iphone con un tera di archiviazione ma mi viene in mente anche i semplici creator su youtube che utilizzano ormai non utilizzano più le macchine fotografiche ma il telefono è talmente potente l'iphone è qualitativo che utilizzano quello quindi avere la possibilità di poter registrare con un hard disk adesso si inventeranno sicuramente degli accrocchi per attaccare l'ssd vicino al telefono e tu lo swappi col che sicuramente l'inventano adesso diventerà uno strumento di produzione oltre che molto più rapido in realtà non so se qualitativo ma sicuramente molto più rapido adatto secondo me ad un certo tipo di produzione non per tutto dai esattamente io ho lavorato di recente a un cortometraggio che era stato girato in piano sequenza in piano sequenza di 28 minuti se non mi ricordo male e tutto quanto con un iphone perché doveva sembrare come se stesse riprendendo la webcam dalla webcam di un computer io ho chiesto per curiosità visto che avevamo usato un iphone 14 pro se avessero girato in progress mi hanno detto di no ma effettivamente mezz'ora di progress non c'entrano forse su un iphone saranno 600 giga eh sì a seconda del tipo di progress che usi può essere mi pare il 422 faccia l'iphone mi pare che fa il 422 sì sì quello diciamo non il massimo ma un buon progress altra caratteristica quando si collega a un disco esterno è che solo se si collega a un disco esterno è che l'iphone può registrare in 4k a 60 fps ma solo se ci attacchi un disco esterno sì è perché bisogna di tanta banda portante e tanto spazio è quello l'unico problema per questo ci sono queste limitazioni infatti ricordo che se compri l'iphone ricordavo col 13 questa cosa quando presentarono il prores diventi povero oltre quello nell'iphone 13 quello base cioè da 128 giga non potevi registrare in 4k in prores ma solo in full hd per una questione proprio di spazio se compri già il 256 puoi registrare in 4k fino a 30 fps ma è una questione di spazio loro dicono per ottimizzare la questione spazio è come dicevi tu anche di banda sì poi la questione di banda perché ragazzi è tanto materiale che deve girare tanti dettagli ci sta ci sta ci sta i 60 fps che l'iphone pro 15 pro riesce a fare si si mettono accanto ai 120 e ai 240 fps che gli iphone già da tempo riescono a registrare in full hd che permettono di fare dei meravigliosi slow motion però questo è sempre l'iphone migliore di sempre quindi anche se ce lo facevano quelli vecchi questo lo fanno comunque l'iphone questo lo fa meglio questo io voglio fare una domanda allora non fa meglio lo slow motion fa in più i 60 fps in 4k ma io voglio chiedere ad emilio innanzitutto che cos'è lo slow motion e come mai è importante fare lo slow motion in camera piuttosto che farlo di fixarlo in post è una bella domanda lo slow motion è quando tipo che ne so stai guardando la partita della roma anzi no della lazio così faccia mai mai quando stai guardando la partita stai guardando la partita e c'è un'azione e il tuo giocatore di calcio preferito fa gol di testa e dopo fanno vedere il rallenti qui vedi il tipo che piano piano colpisce di testa e quello è uno slow motion il il fantomatico rallenti la moviola per intenderci detto in italiano perché è sano direi forse anche l'unica opzione vera dai farlo in camera ma perché ce lo chiedono tanto spesso di rallentare le cose mo se vuoi posso cioè se mi stimoli io ti parto col pippone galattico anche sull'optical flow se vuoi sono pronto a parlarti di motion vector in un attimo se vuoi allora perché perché bisogna farlo in camera in sostanza quando fai lo slow motion tu non fai altro che dire alla camera girare a un numero di fotogrammi più alto tipo diciamo che quello del cinema per intenderci per darvi un'unità di misura è 24 fotogrammi al secondo significa che dentro un secondo ci stanno 24 immagini invece nello slow motion tipo per esempio con l'iphone se ne possono girare 280 ogni 40 scusami 240 ogni secondo ci sono camere per esempio la famosa phantom che a seconda del modello può arrivare anche a 100 mila fotogrammi al secondo quelle che riprendono le gocce d'acqua che cadono che si infrangono sulla superficie che fanno le o addirittura proiettili che passano attraverso le me le ali del colibri che si vede esatto piccola parentesi io so di una società che fa alle phantom e noleggia esclusivamente alla marina militare per fare i test dei missi perché devono vedere la fiammata la direzione il micromovimento le registrano a 100 mila frame per secondo non se ne fregano della risoluzione chiaro solo per vedere lettera fisicamente meccanica male fatto ma hanno una grande applicazione nel mondo scientifico comunque finendo il pippone questa cosa del del dello slow motion in camera si chiama overcranking cioè quando tu metti tanti fotogrammi che poi appunto spalmandoli dopo su 25 24 30 che sono diciamo quelli normali per la visione normale ti danno questo risultato di slow motion moviola la cosa bella è quando un tempo questa roba si girava in pellicola quando si girava in pellicola io non l'ho mai visto ma mi raccontavano che tipo c'erano queste macchine che lo dovevano letteralmente legare al terreno come una lavatrice sempre più di più di più e addirittura tipo per arrivare a a velocità sprecavano un sacco di pellicola e quando erano arrivati alla velocità corretta tipo che ne so 500 fotogrammi al secondo c'era il cristiano che da lontano gridava speed una bella giuro giuro è vero è vero è vero è vero scusate pippone finito ho un'altra domanda per te luca riguarda questo discorso dello slow motion tu che ne capisci anche di macchine da presa ti vorrei chiedere perché lo so ma non lo so con precisione ma le macchine da presa che di solito si usano nel cinema non nei stra mega film nei film tra virgolette normali a quanto arrivano a livello di dire cioè lo fanno lo slow motion e se sia quanto si lo fanno e allora arrivano anche a 240 fotogrammi per secondo ma con un malus ossia prendiamo red una delle uno dei brand più conosciuti in realtà sono un paio i brand arry e red sono le macchine più utilizzate oddio c'è anche sony con la venis con la venis e adesso ne è uscita un'altra è di sony che non si chiama venis non mi ricordo il nome l'hanno presentata ieri una cosa del genere e comunque diciamo che questa macchina ha un foto ha un sensore 8k full frame sto facendo un esempio per girare più velocemente per permettere al processore di girare di registrare processare più fotogrammi al secondo vanno a croppare quella che l'area di ripresa quindi non utilizzeranno tutto il sensore ma utilizzano una porzione più piccola più sali con i fotogrammi che vuoi registrare più registrano con una porzione più piccola del sensore per dare la possibilità all'hardware all'interno della macchina di poter gestire tutti i dati quindi ci sono le possibilità le alexa lo fanno lo slow motion sì non ricordo i dati tecnici però lo fanno almeno 120 credo almeno 120 ci arrivano sì io ti faccio questa domanda perché mi è successo delle volte di chiedere su un set se una scena fosse possibile per motivi non legati alla narrazione ma per motivi tecnici girare in slow motion e mi dicevano che la macchina non ci riusciva e mi sono detto ma in certe occasioni non tecniche ma narrative al contrario ma un iphone non può diventare una seconda camera per fare i rallenti anche in un film allora per me no è piccolino ti dico il mio punto di vista allora da prima quando ti hanno risposto in questo modo o ti hanno detto una grande vaccata oppure la produzione ha risparmiato sulle macchine da presa ok si può anche che si parlasse di di anni di anni fa e si dipende sempre dipende sempre dal periodo storico e io sto parlando ovviamente di macchine da presa degli ultimi dieci anni hanno queste possibilità allora il periodo è quello certo adesso possono fare il 120 il 240 però prima forse si fermavano ai 70 fotogrammi al secondo anche i numeri strani e non per forza numeri tondi o multipli di 24 e 30 e 25 e quindi hanno detto una baccata oppure anche sono modelli di macchine più vecchie oppure non te lo volevano fa perché stai a volte a volte dici a devo fare lo slow motion andiamo a 200 che ne so andiamo a 120 direttore la fotografia pensa aspetta però così devo cambiare tutte le luci allora pensa no tu non ne sai nulla di macchine da presa allora ti dico che non lo fa ma non potrebbe diventare l'iphone sostituto di una action cam non ti varro di una macchina da presa per queste cose di una action cam sì sì sono d'accordo di quella sì di una macchina da presa no o ci fai tutto il film con l'iphone oppure no non sono non penso che può essere infilato solo per fare lo slow motion anche se se posso scusatemi le action cam adesso non è che girano male tipo vero non hanno una cattiva qualità la gopro adesso arriva a 5.3k a 10 bit 60 fotogrammi al secondo non è non è male non è male per in full hd ci arriva a 400 non vorrei dire una minchiata forse 240 secondo me stai di numeri a caso no 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 mi ricorda perché l'hanno presentata una settimana fa capito io sono un pippomani quindi questo è un mind no me le vado a vedere perché a me piacciono tanto quindi fa sempre fatto recensioni quindi però purtroppo gli effetti speciali ci mangiano da dentro prima che mario proceda con il prossimo argomento dell'iphone volevo dire che secondo me se proprio uno spazio se lo deve ritagliare l'iphone nelle produzioni cinematografiche ce l'avrà però secondo me su soprattutto produzioni indipendenti non c'è i soldi vero iphone e secondo me ci possono fare le cose assolutamente dignitose senza però c'è problemi c'è un regista steven sodenberg ok che ha fatto un film totalmente girato con l'iphone qualche anno fa però è già qualche anno fa sì due tre anni fa se non vado errato non l'ho mai visto però l'ha fatto quindi ma quello è marketing addio io penso denberg penso che sia un po più pazzo che marketing non penso che sia un problema economico capito cioè penso che sia proprio una scelta stilistica quella quella di c'è stato c'è stato bom scherzi a parte c'è stato un periodo credo fosse l'epoca dell'iphone 4 e 4s che iniziavano a fare l'hd e in cui c'è chi si è messo a fare film o cortometraggi con quell'iphone non tanto perché fosse così buona la qualità che era buona ma non veramente tale ma perché era un iphone perché era un iphone il fatto di dire ho fatto un corto con l'iphone tutti si andavano a guardare sì tant'è che poi l'iple ci ha preso questa cosa sulle presentazioni successive ha cominciato a utilizzare la dicitura shot with iphone c'è un hashtag su x twitter soprattutto per le foto che è shot on iphone shot on iphone scusami non shot with shot on però decidiamo o è x o è twitter è x twitter x twitter ok ma se è complicato invece di semplificarlo e lo mask l'ha complicato va bene sono un felice non user di x twitter no io adesso sto cercando di utilizzarlo perché a me piace perché a me piace non ce la posso fare e senti mario qual è il prossimo argomento di scaletta? allora un'altra ti entro in gabbatesa ma adesso guarda ne tiriamo fuori uno che ti piace tantissimo perché parliamo di ottiche eccola là sempre secondo il marketing di apple avere un iphone pro è come avere sette obiettivi in uno cioè un ultra grand'angolo da 13 mm un grand'angolo che fa anche macro un 24 mm un 28 un 35 un 48 e nell'iphone pro max uno zoom 5x che ti fa diventare praticamente come se avessi un'ottica da 120 20 mm luca aspetta ma lo zoom è casa tua scusami mario lo zoom è ottico oppure ottico non digitale zoom 3x sull'iphone pro 15 su iphone 15 pro 5x su pro max interessante allora ragazzi una vaccata troce perché ci ha dato leggero la tocca piano non voglio essere stronzo però cioè parliamoci chiaro io ho un iphone 14 ho il 3x il problema è che i sensori di queste macchine sono piccoli quindi si porta con sé tutti i problemi di un sensore piccolo poi abbiamo il fatto che l'intelligenza artificiale tutte queste manate qui oggi riescono a sistemare tanto la grana sì è vero lo zoom ottico sono riusciti con una un pippomane di prisma dentro ad allungare mantenendo nello stesso spazio la lente allora ragazzi se vogliamo fare fotografia la fotografia si fa con le macchine fotografiche se vogliamo fare scatto rubato anche street photography o fotografie per la famiglia l'iphone è il miglior telefono del mondo la miglior macchina fotografica del mondo io non sono d'accordo la vera fotografia si fa a banco ottico mamma mia il dagger ottico mamma mia no no io sono d'accordo con te ma da gherrotipo o da gherrotipo non lo so uno dei due da gherrotipo uno dei tre sono d'accordo con te sono d'accordo con te il fatto che questi sensori siano così piccoli è sicuramente così piccoli è sicuramente un limite rispetto che ne so ai sensori full frame delle macchine fotografiche oppure anche quelli in medio formato ragazzi anche le camere in medio formato mi viene in mente per esempio l'Alexa LF se guardi una roba girata in l'Alexa LF insomma la mascella scende ah sì certo pensare che oggi Blackmagic ieri fosse ha presentato la Blackmagic LF no F in realtà è full frame full frame non è LF però ragazzi una macchina da 3000 euro che ha quel tipo di cioè l'iPhone se lo mangia capito? cioè qualità però però non fai la camera con l'iPhone eh no hai ragione ci giochi ad Assassin's Creed con quella camera eh no perché con l'iPhone ci giochi ad Assassin's Creed l'ultimo Assassin's Creed Assassin's Creed Mirage che uscirà per console next gen uscirà anche per iPhone ma la versione per console non una versione mobile dicono dicono no e allora me lo compro l'iPhone 15 cazzo non mi compro la ti mancava questa motivazione guarda per convincerti eri proprio non te lo volevi comprare no no lo volevo comprare ma se so tre giorni che ci rompi le pavole sgavate che stai lì che fai voglio e non voglio però siete cattivi fatevelo dire parliamo parliamo allora è un'altra novità che questa è quella che fa ridere soprattutto a chi le persone a cui l'iPhone non piace il fatto che abbia una porta USB 3 non ha più il connettore che si chiamava Lightning USB C perdonami e beh qua però si sono piegati al legislatore perché l'Unione Europea ha detto se vuoi vendere ancora i telefoni devi uniformarti per me potevano uniformarsi già prima perché tanto lo standard C è più intelligente del Lightning poi scelte di marketing utilizzare Lightning va bene si sono uniformati amen si sono piegati al volere del legislatore la porta USB C aiuta quel discorso che diciamo prima degli hard disk esterni ah ovviamente sì ovviamente che tanto ragazzi un cavetto USB C Lightning Apple lo poteva fare già per l'iPhone 14 cioè la componentistica hardware non gli manca quindi non sarebbe stato quello il problema secondo me qualche non fanboy potrebbe dirti però un cavetto Lightning non te lo possono vendere a 36 euro esatto esattamente esattamente è l'unico l'unico grande problema sì io non lo so che si compra i cavi originali Apple francamente o io anche io io compro quelli certificati Apple ma non originale di Apple e vabbè però che sono della Garmin eh d'accordo ma li stai pagando gli stessi soldi però no costano un po' di meno eh un po' di meno eh basta ma a noi ci piace spendere i soldi in Sicilia si dice ogni cacatina di mosca è sostanza quindi ogni piccola cosa che tu puoi risparmiare ah ecco è comunque sostanza le monetine chiaro 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 va bene entriamo adesso io però voglio gli argomenti cicciotti Mario quello dove faccio ma adesso ce n'è uno in cui adesso guarda Emilio si trasformerà proprio in un enorme pene eretto in un dragone non so se conoscete il manga o Genki Clinic dove c'è un dottore che ha proprio la forma di pene vabbè molto divertente e comunque perché parliamo del fatto che questo nuovo iPhone abbia la possibilità di registrare con un profilo o una codifica log questo Emilio ce lo spiegherà meglio e che ha qualche cosa a che fare con quello che si chiama Asus che correggetemi se sbaglio dovrebbe essere Academy Color qualcosa Academy Color Academy Color System System alla fine Enchanting System una cosa del genere vado su Google what Asus means una cosa bella che noi li utilizziamo anche però non sappiamo cosa significa allora Asus 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 significa quando ha tennis aspetta vediamo cinema what Asus no ragazzi questo vi fa capire quanto il nostro podcast sia vero cioè noi non abbiamo preparato niente andiamo veramente a breve una scaletta una scaletta Mario si è fatto una bella scaletta diamo a Mario ciò che è di Mario è che siamo ignoranti come le pietre come le merde allora significa Academy Color Encoding System Encoding mi mancava la parola Encoding ok sì sì alla fine è un sistema di codifica del colore però io e Emilio già ci siamo abbiamo dibattuto in privato sulla questione log codifica log che per me non significa niente a livello di marketing cioè per me è marketing Emilio dice che ha un senso io non capisco perché dice che Emilio dice che ha un senso quando le codifiche sono un'altra cosa tu che dici io intendo dire che ha senso se quando il diciamo il flusso di dati ancora raw prima di essere come dire trasformato in immagine anzi prima nell'essere trasformato in immagine viene fatto direttamente con una gamma log quindi con un profilo log io vi devo interrompere subito ci devi chiedere che cos'è il log perché mi dovete dire due cose che cosa vuol dire log che cosa vuol dire raw allora raw raw è crudo significa crudo ok grazie i dati veri e propri dell'immagine quella acquisita dalla camera i bit che arrivano i byte che arrivano dal sensore la luce viene trasformata in corrente andiamo ancora prima la luce viene trasformata in corrente che viene trasformata in bit e questi bit sono appunto trasformati in un'immagine che è questa è l'equivalente forse di quella che era la pellicola prima dello sviluppo se vuoi se vuoi in un qualche modo sì invece il log è una curva cioè praticamente a questa immagine che viene generata dal sensore viene applicata una curva che dà all'immagine in questione un aspetto specifico e questo aspetto specifico è molto slavato quindi con pochissimo contrasto colori molto poco presenti e ha una funzione specifica cioè di mantenere dettagli sia nelle ombre che nelle alte luci cosa che per esempio questo è sempre stato anche un problema anche nella pellicola avere molto dettaglio e molti informazioni sia nelle ombre che nelle alte luci e qual è il vantaggio quindi per cui Apple se lo vende come dicendo oh l'iPhone gira in log qual è il vantaggio le camere professionali girano tutte in log perché poi in post produzione cioè quindi quando arriviamo noi altri a fare il nostro mestiere soprattutto i colorist nello specifico possono lavorare su quell'immagine così poco contrastata per ottenere un'immagine che poi è diciamo come la vediamo poi al cinema con tutti i colori il contrasto la possono rendere più bella quindi c'è diciamo è molto più malleabile rispetto a un'immagine che già ha un aspetto più contrastato e con tutta la sotrazione e adesso faccio lo stronzo perché si chiama log perché questa curva log perché questa curva è logaritmica cazzo la matematica che studiate al liceo serve che appunto quando si avvicina le alte luci la curva si abbassa io sempre ho questo ricordo quando ero al liceo dicevo ma io non andrò mai dal salomere a dirmi mi fai una fetta di salame una logaritmica di salame invece poi alla fine la curva logaritmica la utilizzo perché ci fai i soldi per comprare il salame esatto c'è anche un meme bellissimo in cui c'è la maestra di 30 anni fa o di 20 anni fa che dice all'alunno ma tu che ti pensi che avrei sempre una calcolatrice a portata di mano sì sì sempre ce l'ho anzi ce ne ho due ce l'ho pure nell'orologio fatemi sull'orologio mica c'è la calcolatrice e beh nell'orologio lui c'ha l'orologio nell'apple watch sì anche io ce l'ho però fun fact sull'ipad non esiste la calcolatrice è vero è vero non c'è l'app per la calcolatrice nativa e io bestemmio ma ce l'hai sul telefono sull'orologio ce l'hai ovunque ho capito ma se sto facendo un preventivo sull'ipad mi apro l'applicazione devo prendere anche l'ipad devi usare siri devi dire ehi siri quanto fa 2 più 2 oppure vai su chat gpt e gli chiedi altrettanto chat gpt ragazzi ho fatto delle cose con chat gpt buono 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 ne parleremo ne parleremo questo argomento di uno dei prossimi episodi quindi mi raccomando se avete già inteso fatemi finire di essere nerd profondo adesso è il momento pippone di Emilio vai Asis la questione Asis secondo me è un po' marketing per un motivo specifico e cioè che anche i vecchi iPhone volendo sono compatibili con lo spazio con lo spazio colore Asis non nativamente perché hanno bisogno di l'utilizzo di una LUT ma queste LUT esistono quindi di fatto una LUT che cos'è una LUT? questo ce lo spieghi te però Mario dai io allora LUT che significa look up table giusto? esatto la LUT ve la spiego così come la capisco io che so stupido è una specie di filtro che si può mettere su un video o su una foto che senza dover andare a mettere manopole a cambiare cose da uno stile un look all'immagine saturata desaturata colorata non colorata con gli azzurri più verdi con i gialli più blu eccetera quindi questa è una LUT è una color correction istantanea potremmo dire una conversione ci sta ci sta le LUT possono essere sia tecniche che creative scusatemi sono un nerd maledetto comunque adesso il nuovo il nuovo iPhone 15 sembrerebbe almeno questa è la mia interpretazione avere finalmente un profilo che apparirà nella nella ASIS config dove si potrà appunto scegliere come IDT che significa in sostanza si può utilizzare direttamente l'iPhone come sorgente video e il sistema ASIS fa in automatico la conversione rendendo quindi il flusso lavorativo molto più semplice se se questo può essere effettivamente un punto di vendita così potente per l'iPhone 15 onestamente non lo so ecco vi devo dire la verità fa tanta scena sicuramente già sono la parola academy perché fa perché fa figo no però in realtà ecco non è che voglio dire se c'hai che ne so una Canon volendo ASIS lo puoi usare comunque ecco se c'hai una Sony i profili possono essere convertiti in ASIS e puoi fare un lavoro assolutamente come dire altrettanto professionale insomma senza nessun problema l'ultimo tema del relativo alle caratteristiche di questo iPhone che è quello che mi terrorizza l'ho messo per ultimo apposta perché ce n'è tanto da dirne attorno è il fatto che questo nuovo iPhone Pro non ho capito se è solo il Pro Max o anche il Pro normale anche il Pro normale sì sei sicuro perché sulla scheda tecnica dell'iPhone che c'è sul sito dell'Apple parla che solo il Pro Max ha lo stabilizzatore dell'ottica stereoscopica quindi mi domando ma quindi però l'ottica stereoscopica non ce l'ha perché la caratteristica che ha questo o questi nuovi iPhone è che registra i video in 3D cosa di cui non si sentiva parlare da un po' di tempo per fortuna faccio una piccola faccio una piccola precisazione non è non sono video 3D sono video spaziali e che differenza che so bellissimi spaziali non ne hanno parlato ancora ancora tutto marketing perché finché non li vediamo quello che producono e special modo finché non esce il visore di Apple il Vision Pro non possiamo rendercene conto secondo me non essendo due lenti uguali che registrano in realtà un vero 3D non lo puoi fare un vero 3D perché la cosa figa che hanno fatto è che praticamente utilizzano messe le camere in orizzontale per farle diventare come delle ottiche stereoscopiche però c'hai una leggera fare all'asse e basta non è che ah 3D cioè leggera fare all'asse secondo me una delle due camere registra il video l'altra registra dei dati di profondità e crea da una mano a creare una sorta di mappa di profondità credo che la profondità per la profondità credo usino il LiDAR scanner che c'è il LiDAR anche e secondo me messi insieme creano un video spaziale nel quale se tu ti sposti a destra e sinistra hai un po' di profondità non penso sia proprio 3D questa cosa nata per ovviamente essere riprodotta su il nuovo quindi l'idea non è quella di darti la sensazione che il video abbia una profondità ma che tu lo possa guardare da un po' più di punti di vista c'hai un pelo di parallace spostandosi però a livello di lavorazione se noi che facciamo la post produzione è lo stesso lo stesso dito in culo dei video 3D no non credo che per quella sono proprio due camere diverse cioè tu hai due hai due sorgenti video che devi trattare separatamente ok quindi forse un dito in culo nuovo perché mi immagino una situazione cioè ok non è come le immagini stereoscopiche dove tu se devi fare una modifica la devi fare su due cioè per ogni fotogramma su due immagini anziché su uno solo quindi qui è una sola quindi devi fare una modifica modifichi una sola ma dovrai modificare anche la mappa di profondità per fare il tuo compositing dipende allora ragazzi però attenzione come cazzo la modifichi la mappa di profondità aspettate però questa è una mia idea perché io non ho parametri non conosco quindi l'unica cosa che mi è venuta in mente è una sorta di video girato convertito secondo me ci sei cioè vabbè è speculazione però secondo me potrebbe essere una cosa del genere io ti dico che in compositing una cosa simile la puoi non esattamente bellissima la puoi già fare con semplicemente un displacement cioè l'immagine hai un z depth che adesso poi tocca a te Mario spiegarci che cos'è e con quello z depth utilizzi diciamo i dati dello z depth come displacement boh un po' spiegalo ma esistono adesso non so per fusion ma per per after effects esistono dei dei plugin basati sull'intelligenza artificiale che da un video ricostruiscono la la z depth su fusion c'è il nativo ragazzo c'è il nodo nativo ma che cos'è la z depth che cos'è tocca a te Mario tocca a te allora la z depth è un un'informazione supplementare che si può utilizzare per modificare un video che cerca di dare appunto la possibilità di non semplicemente modificare le cose su un solo piano perché alla fine il video è piatto ma anche di poter andare a modificare le cose sulla distanza cioè se io sto inquadrando una persona e a 10 metri alle spalle c'è un albero la persona e l'albero sono a due distanze diverse se io voglio fare una modifica solamente sull'albero se ho la z depth lo posso fare perché ho l'informazione della sua posizione nello spazio la cosa per la quale si utilizza tantissimo questa informazione è per creare in post produzione ad esempio lo sfocato ho girato tutto a fuoco se ho questa informazione posso dire sfocami da 5 metri in poi quindi la maniera nella quale viene utilizzata questa informazione è se per esempio io ho una faccia davanti di una persona con 10 metri alle spalle un albero io posso dire guarda da 5 metri in poi sfoca quindi perché ho questa informazione sulla distanza un altro modo per cui si usa il pass della z della profondità e se voglio aggiungere della nebbia può essere utile anche per questo genere di cose quindi l'iPhone Pro Max sto cazzo pare che generi questa 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 informazione in maniera nativa c'è il LIDAR e quindi lo fa che cos'è il LIDAR il LIDAR è un radar che genera appunto l'informazione di profondità è un scanner giusto uno scanner è uno scanner sì tipo il Kinect per intenderci tipo il Kinect che cos'è il Kinect quello lo sanno dai lo sapranno cos'è il Kinect dai hanno il pollice opponibile credo i nostri spettatori andate a cercare Kinect su Google eh va bene va bene fantastico ma perché perché fa paura sta cosa perché fa paura Luca allora faccio una premessa si chiacchiericcia sul web che Apple stia per acquisire Disney o che Apple stia lavorando per acquisire Disney ora vi spiego perché abbiamo voluto parlare dell'iPhone 15 e di Apple indirettamente perché se Apple acquista Disney butterà tutti i prodotti Disney sui prodotti Apple se sta puntando tanto sul mondo VR quindi con il visore Vision Pro bla 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 vuol dire che cominceranno a nascere prodotti in 3D e quindi il 3D ritorna a galla che fortunatamente era morto e sepolto adesso dovrà ritornare a galla ma già soltanto con il Vision Pro ritorna a galla il 3D peggio se la Disney diventa di Apple ciò significa che ricominceranno a girare film in 3D e noi dobbiamo lavorare il doppio ovviamente io voglio morire voglio morire raga raga fatevi un attimo vi tranquillizzo è già successo no no ma che in Fusion dagli anni 30 fai conto quando hanno fatto i primissimi film in 3D poi nasce muore nasce muore anche perché la gente non c'ha voglia girare i film in 3D i film 3D veri hanno fatto Avatar forse cosa come si chiama Gravity il resto sono tutti girati normalmente e poi adattati dopo alla tecnologia 3D ecco l'altro ecco l'altro problema ma il fatto che siano adattati è semplicemente appunto come dicevamo ma io ho una domanda ho una domanda quando viene girato un film in 2D dopodiché viene convertito in 3D ma viene convertito il girato o la versione già post prodotta io penso che sia la versione post prodotta sì sì il film è finito cioè praticamente non fanno che applicare una differenza fra l'occhio sinistro e l'occhio destro insomma quello che sappiamo già dopo aver creato la mappa la mappa di profondità per ogni singola cosa che non è una cosa proprio ma no ma fa schifo infatti fa schifo e fa venire mal di testa e ci sono mille problematiche fatta a mano fatta a mano ovviamente è difficile la rottura di coglioni viene male ma con l'intelligenza artificiale è vero è vero chissà potrebbe questo non l'avevo considerato potrebbe con un click potrebbe essere che si genere per esempio già adesso confusion barra da vinci puoi generare una mappa di profondità non è precisissima ma puoi generare anche nei filtri neurali di photoshop c'è un filtro che serve a creare il finto sfocato da cui però puoi anche salvarti la mappa di profondità ovviamente stiamo parlando di photoshop quindi di una roba su immagini fisse non per immagini in movimento però esiste la tecnologia le cose vanno così veloci che se tutto questo pippone che ho fatto comincia ad avere forma mi aspetto che l'anno prossimo after effect cacci fuori il filtro neurale aspetta e spera ma dai per piacere c'è qualcuno che rema contro qui io sono del parere che adobe tiene castrate le possibilità dei propri software per una questione di marketing ah no 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 io non sono d'accordo no scusatemi parentesi adobe e poi mi esce il crimine come mi piace dire adobe è tipo non è che castra i propri software sono i loro software che sono tipo scritti 56 milioni di anni fa che o li riscrivono da capo oppure non c'è niente da fare non sono d'accordissimo come crash after crash anche fusion e crash nuke crashano tutti nuke crasha si fusion no no anche fusion mi è crashato stamattina perché tu fai le cose fusion è il chuck norris dei software bravissime delle volte crasha il sistema operativo ma fusion no fusion è rimasto aperto esatto esatto precisamente no io secondo me scherzi a parte adobe ha delle chicchie nel cassetto già sviluppate ma non le tira fuori per una questione di marketing perché altrimenti che cazzo fa l'anno prossimo e ragazzi dovete pensare anche a questo io vi devo nuovamente riportare sulla retta via perché non dobbiamo divagare perché io vi voglio chiedere un'altra cosa più generale perché diciamo le abbiamo un pochettino sviscerate le caratteristiche di questo nuovo iphone ma la mia domanda è un iphone o anche in generale uno smartphone in che modo può essere uno strumento utile su un set per chi o nella vita lavorativa di chi fa il nostro mestiere di chi fa la post io ho una risposta te la posso dare vai io ce ne ho io più di una esatto allora io ti la do una super tecnica super nerd quale il sottoscritto tipo hai un'inquadratura complessa e sai che dovrai fare un camera tracking puoi utilizzare tipo un'app per esempio polycam per farti con il lidar presente nel telefono uno scan dell'agio come dire dell'ambiente 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 in cui tu stai girando e utilizzare poi quella scansione in un software per esempio synthize di camera tracking per avere un camera tracking molto più solido che cos'è il camera tracking il camera tracking è un processo matematico che consente a un computer di ricostruire il movimento di una camera in un ambiente 3d di una camera girata veramente e a cosa serve un cazzo lo stesso però a cosa serve serve a un sacco di cose serve a e te ne esci così serve a un sacco di cose serve a tutto serve a fare che ne so qualsiasi cosa ragazzi quando fate gli occhi alla sorrentina un po' di camera tracking sopra bravissimo la morte sua si la morte sua però ecco se hai un camera tracking puoi cancellare cose da un'immagine inserire cose dentro un'immagine non un'immagine un'immagine in movimento intendo quindi da quel punto di vista vuoi mettere delle scritte vuoi aggiungere un'aureola a una persona che cammina lo puoi fare puoi aggiungere delle cose che si muoveranno così come si è mossa la macchina la presa originale quindi se ha girato a destra la scritta si sposterà di conseguenza e diciamo che quella roba lì delle scansioni può essere utile sia per fare per esempio appunto questa cosa del motion tracking ma magari anche che ne so hai bisogno di sostituire la faccia di qualcuno oppure non puoi avere la faccia di qualcuno sul set fai una scansione con il telefono della faccia di qualcuno e ce l'hai in 3D e puoi usarla verissimo devi fare un doppio digitale sembra tutto figo però io ho Polycam l'ho pagata la pago l'ho usata sui set ma fa un po' schifo ovviamente non è come un LiDAR vero perché il LiDAR vero ti costa un'altra cifra sicuramente però se non ce l'hai se non hai i soldi è meglio averci quella cosa di Polycam che comunque non è il massimo piuttosto che niente esattamente questo è il punto non è la soluzione a tutti i mali no ma in certe circostanze può diventare molto molto utile ma non solo a questo mi vengono in mente tantissime circostanze dove noi che facciamo supervisione sul set Emilio anche tu la fai vero? ho fatta però in pubblicità non cinema non cinema fin qui no portiamo con noi sempre una valanga di attrezzatura che possono essere delle camere a 360 per fare delle fotografie dell'ambiente una macchina fotografica appunti carta penna un po' di scotch oppure i tracker ecco con l'iPhone tu la metà dello zaino lo riduci al semplice telefono perché fotografie le fa video le fa scansione 3D la fa note le prendi con quello quindi verissimo ci fai tanto è vero lo faresti anche con un telefono Android sì sì no ma stiamo parlando di smartphone parliamo di smartphone non so se gli Android hanno il LiDAR però sbaglio forse qualcuno di super mega fascia sicuramente qualcuno ci sarà che ce l'ha sono ignorante non li conosco tutti i modelli però anche io non li conosco tutti ma sicuramente qualcuno ci sarà detto ciò l'iPhone lo smartphone ormai è diventato uno strumento per tutti quanti fondamentale per fare queste cose e non solo una cosa che a me viene in mente è come può diventare utile uno smartphone di ultima generazione parlo sui set per evitare i chroma key e qui Mario vorrei che tu mi spiegassi il perché se tu hai capito cosa intendo un modo nel quale i telefoni sono utili sui set è quello che possono sostituire i cellulari con i green screen cioè se un telefono ha un minimo di potenza di scheda grafica si possono creare ormai con discreta semplicità dei prototipi di app che simulano la telefonata il finto whatsapp la messaggistica il finto sito web eccetera e a morte i green screen a morte i marker si fa tutto come vuole Nolan live sul set vedete che alla fine poi andiamo contro cioè andiamo con Nolan vogliamo fare le veci di Nolan vogliamo aiutarlo contro noi stessi invece di fix it in post fix it in pre fix it in pre in pre pro in pre 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 pro in pre pre pro 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 ok allora ragazzi questo episodio è andato un po' più per le lunghe perché era in realtà c'è tanto altro di cui parlare però ci rendiamo conto che poi creare un purpurri di cose totalmente diverso anche se giriamo sempre intorno a un solo argomento diventa complesso da essere capito ascoltato tutto quanto insieme quindi c'è sicuramente qualcuno che vuole farvi una domanda come fine di ogni episodio ma io prima di quella domanda ne aggiungo un'altra di carattere podcastiano se questo tipo di argomenti vi interessano fateci sapere se voi volete che svisceriamo per esempio la questione dei contributi degli smartphone oppure una questione più tecnica come il chroma key sugli smartphone quindi entrando un po' più nel tecnico rimanendo un po' meno pop però siamo abbastanza come posso dire allineati sul fatto che tutti vogliamo che tutti quanti capiscano il nostro settore questo podcast nasce proprio per spiegarlo il nostro settore ma perché non trattare determinati argomenti un pochino più nello specifico dato che abbiamo emilio che scalpita sulla sedia mario che vuole dire sempre alla sua fare il pippotto delle schede tecniche io che sono nel mezzo che voglio cercare di rendere il podcast una cosa ascoltabile anche da mia zia ricordando sempre mia zia che va al cinema ruti e scureggi quindi sintetizzo dicendo in tutte le piattaforme dove vi trovate scriveteci nei commenti c'è anche una mail c'è il blog scriveteci serenamente dite no guarda parlate più di questo perché ci interessa e noi prendiamo tutte le vostre informazioni e mettiamo insieme anzi lancio una cosa che i miei compari in questo momento non sanno se avete delle domande e le fate specificamente uno di noi ogni episodio proviamo a rispondere a una delle vostre domande di qualsiasi natura ovviamente legata al mondo di effetti visivi mandateci la domanda per Emilio che cos'è quella cosa Emilio vi deve rispondere facciamo in modo che Emilio studi per rispondere alla vostra domanda non so se cosa vi piace diventa cattiva però almeno ci divertiamo ma in generale diciamo partecipate e la domanda con la quale vi lasciamo è ma secondo voi l'iPhone Pro mega super ciaone è davvero adatto a rimpiazzare una videocamera professionale quasi scannano quasi scannano signori io vi ringrazio per aver ascoltato o visto quest'altro episodio di Fix It Impost spero che il podcast vi piace mi raccomando iscrivetevi iscrivetevi seguiteci non so i vari tastini sulle varie piattaforme siamo presenti ovunque e soprattutto seguiteci su Instagram sia sul profilo ufficiale Fix It Impost IT e sui nostri profili personali Luca Auletta Mario Balocci perché così ti chiami Mario non ho capito perché Emilio underscore Sapia su Instagram così potete seguire vedere un pochino le risposte che facciamo nei direct nelle stories quelle cose sai fresh della generazione Z anche se di generazione Z non abbiamo niente se non la Z proprio perché siamo arrivati la Zadept esatto quindi io vi ringrazio e saluto tutti quanti voi ciao ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.